Succede, avevamo invitato Daniela Santanchè che ha accettato a partecipare a Sotto il Sole e sotto il sole di una delle piazze principali di Roma, lei proseguiva la sua polemica con Ilaria D'Amico sulla telecamera delle mutande che certi magistrati mettono. Purtroppo il microfono che le abbiamo agganciato si è staccato dalla nostra telecamera, così l'audio è inascoltabile, piuttosto che buttarla via l'abbiamo deciso di offrirla lo stesso, in fondo una Daniela Santanchè così non l'avete mai ascoltata. Ciao! 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 Grazie a tutti.